Come sapremo di aver discernito correttamente? Quando gli uomini di Gibion vennero dal popolo di Israele e dichiararono di aver viaggiato molto, Israele chiese loro, come sapremo che ciò che avete detto è vero? Questa è essenzialmente la stessa domanda che stiamo ponendo qui. Israele ha fatto l'errore di esaminare le prove disponibili, ma di non chiedere addio. Ecco un'altra opportunità per chiedere al Padre di inviare lo Spirito di Verità per guidarti. Chiedigli se è questo il rotolo e chi sono i cavalieri. Chiedi a Lui per prove che lo confermano. Confronta le prove che Dio ti fornisce alle prove presentate qui. Discernente le identificazioni della pergamena e dei cavalieri. Se abbiamo discernito correttamente la pergamena e i cavalieri, allora? Ogni cavaliere corrisponderà agli altri. I cavalieri corrisponderanno alla pergamena? La pergamena e i cavalieri corrisponderanno al libro dell'Apocalisse e ci mostreranno le cose a venire. In un modo sensato, non forzato e segue le buone pratiche di interpretazione. Parte della buona pratica di interpretazione è identificare il pergamena indipendentemente dai cavalieri, i cavalieri indipendentemente dal pergamena e ogni cavaliere indipendentemente dagli altri cavalieri. Se l'identificazione non viene eseguita in modo indipendente, i cavalieri possono corrispondere tra loro perché identificati l'uno dall'altro e i cavalieri possono corrispondere alla pergamena perché identificati dalla pergamena. Quando l'identificazione viene eseguita in modo indipendente, rafforza il caso in cui le identificazioni siano corrette. In questo libro, la pergamena viene identificata usando le prove bibliche e storiche sulla pergamena. Nulla riguardo ai cavalieri è stato usato per identificare la pergamena. Nulla sulla pergamena è stato usato per identificare i cavalieri. Ogni cavaliere è stato identificato usando le prove bibliche su quel cavaliere. Nulla sugli altri cavalieri è stato usato per identificare un cavaliere. Ogni cavaliere corrisponde agli altri. Il primo cavaliere, l'uomo. Il secondo cavaliere, Satana. Il terzo cavaliere, Servitù, la maledizione, cibo per le condizioni salariali. Il quarto cavaliere, Morte e Ade. L'uomo entrò nella terra. Dio diede loro il dominio sulla terra e disse loro di superare. Sono andati avanti superando e per superare. Il cibo di cui avevano bisogno era prontamente disponibile. Godevano di pace e libertà. I loro rapporti reciproci, con Dio e con la creazione, erano sani e completi. Genesi capitolo 1 versi 26 a 31. Satana entrò sulla terra e tentò l'uomo. Hanno ceduto alla tentazione e hanno dato a Satana il potere di prendere la pace dalla terra. Sono stati superati e hanno perso il dominio e la libertà. Il cibo non era più facilmente disponibile. Le loro relazioni reciproche, Dio e la creazione, furono interrotte. Gli uomini hanno iniziato a uccidersi l'un l'altro. Genesi capitolo 3 versi 1 a 7 e capitolo 4 versi 1 a 8. Satana prese il controllo della fornitura delle risorse della terra. Giovanni capitolo 12 verso 31 a seconda Corinzi capitolo 4 verso 4. Il cibo non era più liberamente disponibile e l'uomo doveva lavorare per crescere o pagare il cibo di cui aveva bisogno per sopravvivere. Genesi capitolo 3 versi 17 a 19. La morte entrò nella terra e iniziò a uccidere uomini con guerre, carestie, pestilenze e animali selvaggi. Romani capitolo 5 verso 12. L'uomo era senza forza per sfuggire alle condizioni che gli erano imposte. Solo un redentore quasi parente che poteva pagare il prezzo della redenzione, poteva liberarlo. Le identità proposte dei cavalieri corrispondono chiaramente l'una all'altra. Ciò aggiunge ulteriori prove che le identità sono corrette. I cavalieri corrispondono alla pergamena. Una pergamena del riscatto è un documento legale che registra lo stato giuridico di una persona rispetto alla schiavitù e al riscatto. Registra il diritto di riscatto di uno schiavo, il prezzo del riscatto, le qualifiche del redentore e i diritti di un redentore di riscattare. Quando un redentore esercita il suo diritto di riscattare, la pergamena della redenzione viene aggiornata per registrare che la redenzione è stata completata e costituisce la prova che la persona è ora redenta e non è più schiava. Per registrare il diritto di redenzione di uno schiavo, la pergamena deve contenere L'identità dello schiavo L'identità del padrone da cui lo schiavo deve essere riscattato Le condizioni della persona, prima che diventasse schiava, le condizioni in cui lo schiavo deve essere ripristinato Le condizioni imposte loro dal proprietario dello schiavo, le condizioni da cui lo schiavo deve essere ripristinato Gesù prende il rotolo e lo apre Il contenuto dei primi quattro sigilli è rappresentato dai cavalieri In corrispondenza del contenuto della pergamena, l'uomo è lo schiavo da riscattare Ciò è in accordo con le altre prove riguardanti l'identità della pergamena come pergamena della redenzione dell'uomo Satana è il secondo cavaliere È il proprietario schiavo dal quale l'uomo deve essere redento Man mano che ogni cavaliere viene fuori, vengono rivelate prove relative alle condizioni dell'uomo prima di diventare schiavi e prove relative alle condizioni che Satana ha imposto all'uomo Il primo cavaliere mostra che l'uomo era spiritualmente pulito, aveva il dominio, stava superando e stava eseguendo la missione assegnata per superare La condizione originale di pace dell'uomo viene rivelata quando il secondo cavaliere impone una condizione in cui la pace viene tolta dalla terra e gli uomini iniziano a uccidersi a vicenda Il cibo per le condizioni economiche salariali è imposto La morte e l'ade sono le condizioni finali Si tratta di condizioni originali alle quali l'uomo deve essere redento e delle condizioni imposte dalle quali l'uomo deve essere redento I cavalieri soddisfano i requisiti legali per il contenuto di una pergamena di redenzione Seguendo le buone pratiche di interpretazione, se la pergamena è una pergamena di redenzione, i cavalieri devono soddisfare i requisiti legali della pergamena In caso contrario, l'interpretazione dei cavalieri non è corretta Se la pergamena è la pergamena della redenzione per l'uomo e la creazione, allora questi sono gli unici cavalieri che possono corrispondere ad essa La pergamena e i cavalieri corrispondono al libro dell'Apocalisse e ci mostrano le cose a venire La rivelazione è mostrarci cose che devono accadere Se la pergamena e i cavalieri corrispondono alla rivelazione, allora quando li consideriamo, dovrebbero mostrarci cose che devono accadere La pergamena e i cavalieri ci danno una comprensione della nostra redenzione che ci mostra che saremo liberati Satana Peccato Servitù La maledizione Cibo per le condizioni salariali Morte Saremo riportati alla pace, alla rettitudine e usciremo per vincere Accadranno cose che producono questi risultati Quando guardiamo il resto della rivelazione, vediamo accadere cose che producono questi risultati Il quinto sigillo Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa Essi gridarono a gran voce Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sulla la terra E a ciascuno di essi fu data una veste bianca E fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo Finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli Che dovevano essere uccisi come loro Apocalisse capitolo 6, versi 9 a 11 In numeri capitolo 35, verso 19, Dio dà istruzioni su come vendicare il sangue delle persone assassinate Sarà il vendicatore del sangue colui che metterà a morte l'omicida Quando lo incontrerà, l'ucciderà Numeri capitolo 35, verso 19 La parola tradotta vendicatore è Goel ed è tradotta in altri luoghi come redentore Il vendicatore del sangue deve riscattare il sangue della vittima Il vendicatore del sangue è il parente stretto della vittima, il loro parente redentore L'uccisione di un membro del clan è stata interpretata dai membri rimanenti Non solo come uno spargimento del sangue del gruppo Devò 1965, 11 Ma come appropriazione indebita di sangue che apparteneva correttamente a tutto il gruppo La responsabilità del vendicatore del sangue, parente redentore, era di riconquistare, redimere, quel sangue sottratti ucciso uccidendo l'assassino Deiub 1969, 123-24 Questo aumenta la nostra comprensione della redenzione e ci mostra di più su ciò che deve accadere Gesù distruggerà Satana, la morte, il luogo invisibile dei morti e tutti coloro che hanno lavorato con loro per uccidere gli altri Ci dice anche che altri servitori di Gesù verranno uccisi prima che ciò accada Il quinto sigillo corrisponde a una pergamena della redenzione e corrisponde a cavalieri che fanno parte del processo di redenzione Il sesto sigillo Poi vidi quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece in un gran terremoto Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò come sangue Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti E dicevano ai monti e alle rocce Cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello perché è venuto il gran giorno della loro ira E chi è in grado di stare in piedi? Tutta l'autorità in cielo e in terra è stata data a Gesù Matteo capitolo 28 verso 18 Secondo Romani capitolo 13 verso 4 Colui che detiene l'autorità è il servitore di Dio, un vendicatore che compie l'ira di Dio sul trasgressore Quando viene aperto il sesto sigillo, vediamo Gesù adempiere al suo ruolo di parente redentore, vendicatore del sangue Vendica il sangue di quelli uccisi e compie l'ira di Dio sul trasgressore Il settimo sigillo Il sesto sigillo ci porta all'inizio del giorno di vendetta di Dio su Satana, la morte e il luogo invisibile dei morti E tutti i responsabili dell'uccisione dell'uomo Quando viene aperto il settimo sigillo, vediamo il giorno della vendetta Nei capitoli conclusivi dell'Apocalisse, vediamo l'adempimento della vendetta di Dio Dopo ciò sentì qualcosa come la voce forte di una vasta moltitudine in cielo, che diceva Alleluia! Salvezza, gloria e potere appartengono al nostro Dio Perché i suoi giudizi sono veri e giusti, perché ha giudicato la famigerata prostituta che corrompeva la terra con la sua immoralità sessuale E ha vendicato il sangue dei suoi servitori dalla sua mano Apocalisse capitolo 19, versi 1 e 2 Il diavolo che li ha ingannati è stato gettato nel lago di fuoco e zolfo, dove si trovano la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli Apocalisse capitolo 20, verso 10 La morte e l'ade furono gettati nel lago di fuoco Apocalisse capitolo 20, verso 14 E Dio asciugherà tutte le lacrime dai loro occhi, e non ci sarà più morte, né dolore, né pianto, né vi sarà più dolore, poiché le cose precedenti sono morte Apocalisse capitolo 21, verso 4 E mi mostrò un fiume puro di acqua di vita, limpido come cristallo, che usciva dal trono di Dio e dell'agnello In mezzo alla strada, e su entrambi i lati del fiume, c'era l'albero della vita, che portava dodici frutti e produceva i suoi frutti ogni mese E le foglie dell'albero servivano per la guarigione del nazioni E non ci sarà più maledizione Apocalisse capitolo 22, versi 1 a 3 Questo è il compimento di quelle cose che la pergamena e i cavalieri ci mostrano che devono aver luogo Osservazioni finali su come la pergamena e i cavalieri si adattino al libro dell'Apocalisse Infine, il rotolo e i cavalieri si corrisponde anche alla Bibbia e al libro dell'Apocalisse nei seguenti modi Sequenzialmente Quando compaiono in Apocalisse, corrisponde Topicamente Le identità si adattano agli argomenti trattati dal libro dell'Apocalisse Scopo Le identità sono coerenti con l'ambito dell'Apocalisse Peso o importanza Gli eventi e le questioni associate alle identità della pergamena e dei cavalieri sono coerenti in importanza con gli eventi e le questioni dell'Apocalisse Scopo Poiché i poteri dei cieli saranno scossi E poi vedranno il figlio dell'uomo entrare in una nuvola con potenza e grande gloria Ora quando queste cose iniziano a prendere posto, alzati in piedi perché la tua redenzione si sta avvicinando Luca capitolo 21, versi 25 a 28 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti